Todde. Episodio vergognoso episodio vergognoso. Un disgusto. Così il vice presidente degli M5 Santa Alessandra Todde, commenta su Facebook la storia della ragazza. Coperta di cioccolato diffuso sul tavolo del buffet del dessert in ragazza di 15 anni. Entrambi erano arrabbiati. Non indignati. Arrabbiati. Parlavano del modello sbagliato tutti ragazzi ragazze. Ragazzi e ragazze presenti lì. Potevano ricevere il vero problema, era cambiare il capo di coloro lo proponevano disgusto pensando. Fosse un piacevole intrattenimento. Secondo l'ex vice amministrazione permise. Perché cambia davvero qualcosa deve presto cambiare il capo di molti uomini e. Nella stessa misura. Quello di molte donne scrive sui social network. Credo il problema sia nell'equilibrio discutibile della nostra società. Mantenendo i passaggi senza scrupoli in testa a coloro soffrono ogni giorno e si sentono a proprio. Agio con coloro hanno il potere in mano. Questo equilibrio deve essere cambiato con istruzione. Modelli. Formazione. E tanta indignazione per episodi di questo tipo.